Grazie a tutti Insomma tutti quei prodotti audiovisivi che troviamo sulle nostre piattaforme on demand Che tengono le nostre belle chiappette sul divano del soggiorno oppure sul nostro letto Che devo dire la verità con questo caldo ci sta condizionatore, ventilatore, bibita ghiacciata E un bel Netflix, Amazon Prime Video, Infinity Lee a tenerci compagnia Se non fosse che bisogna anche lavorare per andare avanti E le vacanze si vedono il giorno del mai Oggi siamo qui, in effetti non ci vedevamo un po' con BingeStream So che magari vi aspettavate più una certa terza stagione di un certo Stranger Ma no, quello preferisco farlo direttamente settimana prossima Quando tutti avrete visto praticamente Stranger Things Vi sarete dati al super binge watching nel weekend In realtà sto finendo ancora io di vederlo perché mi hanno dato qualcosina in anteprima Quindi sicuramente arriverà una recensione nei prossimi giorni su Lega Nerd Però appunto preferisco che tutti voi abbiate visto Stranger Things E poi ne parliamo insomma sul canale di Lega Quindi insomma settimana prossima Oggi invece siamo qui per parlare di una serie tv antologica Una mini serie tv anzi antologica Uscita in realtà in America già due anni fa In Italia aveva già avuto una prima distribuzione su Premium Stories Che è insomma il canale di unione fra Sky e Mediaset Premium se non mi sbaglio E che da pochissimo invece è arrivata su Netflix Su Netflix trovate solo la prima stagione Tanto che vi frega alla fine la serie è antologica Quindi poi uno si recupera la seconda stagione Non è importantissimo E oggi parliamo appunto della prima stagione di The Sinner Questa serie tv thriller, drammatica Che mi ha veramente molto molto sorpreso Con protagonista una Jessica Biel Che non vedevo da tantissimi anni all'opera Su qualcosa, su una serie tv Anzi credo che in una serie tv io non abbia mai visto Jessica Biel Però insomma non la vedevo da tanto tempo recitare in un film E l'ho trovata in forma smagliante Soprattutto a livello interpretativo Mai fatto paura, avevo la tab dietro, avevo le cuffie ma senza musica Quindi è partito il mio super ciao popolo eleganerd Ciao Whites, ciao Whites dall'altro È partito così alla grandissima Allora, bando alle chuance Bando alle chuance E direi insomma di buttarci allegramente nella mischia Direi che prima di tutto La prima cosa che noi andiamo a fare Quindi magari se qualcuno di voi Non conosceva l'esistenza di questa serie La prima cosa che andiamo a fare è spararci il trailer Ci spariamo in realtà un teaser trailer Non sono uscite tantissime tantissime cose Devo dire la verità Io non la vedevo addirittura da settimo cielo No dai da settimo cielo no In realtà ha fatto un botto di altra roba No dai da settimo cielo no Quello no Però sì esatto Era nel terzo Blade Non ha fatto anche un MTV No, quello era solo Ryan Reynolds Che ha fatto uno dei vari remake di MTV Laus No dai avrà fatto pure No, io l'ho vista anche in qualcos'altro Anche in uno di quei film in stile Love Actually O cose di questo genere Non mi ricordo Era un capodanno Oppure l'amore ti sorprenderà Una roba del genere Vabbè L'ho vista anche in altre occasioni Allora ci becchiamo questo bel trailer Il lingua originale però sottotitolato Io vi consiglio di guardare la serie come sempre Il lingua originale Ah ecco quindi addirittura è riuscita su Infinity prima Dal 28 marzo del 2000 E non si sa che cosa però Non sapevo qui la trovavate O la trovate ancora su Infinity Non so se ci sia veramente su Ancora su Infinity Sarò sincera In caso c'è anche su Infinity Se avete l'abbonamento di Infinity Io su Infinity non l'avevo mai notata Sarò molto molto onesta Comunque Vabbè La trovate in un bel po' di vidi Adesso mi è capitato di vederla Perché era stata caricata Credo da pochissimo Probabilmente a giugno Su Netflix E in effetti Sotto ogni aspettativa Non perché non gli dessi fiducia Semplicemente Non mi aveva particolarmente incuriosito Devo dire la verità Il trailer Avevo visto proprio questo promo Non è chissà quanto accattivante Cioè si metto un po' di curiosità Però non è che mi aveva detto Chissà che cosa Non mi aveva fatto impazzire Ecco mettiamola Mettiamola in questa maniera Invece da dire la verità Ce la siamo sparata letteralmente In pochissimo In pochissimi giorni Quindi è andata Andata veramente alla grande Di che cosa parla The Sinner? Tra l'altro il peccatore In questo caso anzi La peccatrice Ovvero Jessica Biel Coratannetti è questa donna Apparentemente normale Tranquilla Mamma di famiglia Insomma Questo bellissimo bimbo Questo bel marito Che un giorno Mentre sono al mare Barra lago Mentre lei sta sbucciando La frutta al figlio Presa da quello che Apparentemente ci sembra Un raptus Vè di fronte a lei Lei è seduta lì Col marito Il figlio letto Di fronte a lei C'è un gruppo di ragazzi Un po' più giovani Di lei Che si sta divertendo Con della musica alta Vede una coppia Che si bacia Stanno amoreggiando In modo un pochino Molesto Lei è presa da un raptus Si alza Con questo coltello Da frutta in mano Scatta Si butta su sto ragazzo Lo colpisce Sette volte Condannandolo a morte Perché lo prende Veramente in punti Vitali E da quel momento In poi Lei viene arrestata E da quel momento Scatta Quello che È un finto processo Nel senso che È palese Che lei Abbia Ucciso Questo Tale Frankie Belmond Senza Nessun motivo Apparente Si sta vedendo bene Non Ah no Sta avendo Oh Sto avendo un po' di problemi Mi sa Sto avendo un po' di problemi Di linea Sta facendo un po' di lag Me lo confermate Che fa un po' di lag Dovevo riavviare Dovevo riavviare Sì Anche se non me lo confermate Noto da qui Noto dal mio Sì Sta facendo un bel po' di lag Allora Vediamo se regge Se non regge Vabbè Vado avanti altri due minuti Perché adesso Sembra essersi ripreso Se non regge Riavvia Dobbiamo riavviare Tutto da capo Che palle Allora Detto questo Andando Ricominciando Quindi insomma Ci sono Tantissimi testimoni Che hanno visto Non io vedo tutto ok Ci sono tantissimi testimoni Che hanno visto Che lei Insomma Siamo in spiaggia Che lei ha ucciso Questo ragazzo Così random Quindi è come se Non ci dovesse nemmeno Essere un processo Lei tra l'altro Si dichiara colpevole La cosa Inspiegabile È che lei Si prende Tutta la colpa Pur non riuscendo A dare un vero movente Cioè a certo punto Dà un movente Che dice Mi stavano dando fastidio La loro musica È assordante Stavano dando fastidio A tutta la spiaggia Ma non regge Per quanto poi In realtà In questi casi Magari polizia locale Di un paesino locale Sai che c'è Non vogliamo avere bighe Questo ha confessato Sti cazzi Sì nel movente Poco giusto Se davanti al giudice Si dichiara colpevole Buonanotte Ci abbiamo archiviato Il caso E la sbattiamo In galera Tanto poi Se fa 20 anni Si fa 30 Con la condizionale Esce a 20 anni Molto bene E c'è invece Il detective Che è l'unico personaggio Che poi ritornerà Se non ho capito male Nella seconda stagione C'è il detective Invece Che non è convinto E in effetti Quando le fa il primo Miniprocesso E si dichiara colpevole Pure il giudice Gli fa Senti Non è possibile Adesso io capisco Che tu ti stai Dichiarando colpevole Però sei un po' Troppo fredda E poi si vede Che sei leggermente sconvolta Facciamo che io ti faccio fare No? La perizia psichiatrica E vediamo Se sei capace Di andare Veramente a processo E quindi Definirti colpevole O meno E questo appunto Serve a questo detective Che si impunta Nel caso Della Tannetti Perché vuole Assolutamente Scoprire la verità Perché lui è convinto Che tale Cora Che con tutta questa forza Tra l'altro Continua a dire Che è colpevole Come in realtà Se fosse colpevole Di tante altre cose Come se quell'omicidio Fosse solo La punta Di un iceberg Infognato In un marciume Veramente Veramente Terrificante Il detective Ha questa Piccola intuizione Quindi vuole Assolutamente Andare avanti La serie È formata Quindi senza dirvi oltre È formata Da otto episodi Tutti con un ottimo ritmo C'è solo forse Un episodio Nel bel mezzo Non mi ricordo Se il quarto E il quinto Che un po' Si ammosciava In effetti Era un po' Altalenante Riprendendosi Sul finale Era in effetti Un episodio Un po' Di stallo Il classico episodio Da mediano Da giro di boa Per il resto La serie In tutti questi otto episodi Che in realtà Sono divisi Parte 1 Parte 2 Parte 3 È una sottospecie Di ricostruzione Degli eventi Soffre di un sacco Di buchi All'interno Poi della mente Di questa donna Perché ci rendiamo conto Che potrebbe essere Stata vittima Di una qualsiasi Tipo di violenza Potrebbe aver subito Un trauma Potrebbe aver Cioè Probabilmente lo conosceva Forse non lo conosceva Cerca insomma La serie Di farvi capire Ha una sorta Di amnesia Questa donna E cerca appunto La serie Di farvi capire Cos'è che L'ha spinta A compiere Quel gesto E cosa si nasconde Davvero All'interno Della sua mente Perché poi All'inizio Soprattutto Le dà una serie Di motivazioni Giustificazioni Che per quanto Possano avere senso Però appunto Con il tipo Di persona Che è lei È assurdo Tra l'altro È molto bello Come spesso Poi accade In questo tipo Di thriller Anche dal punto Di vista sociale Mediatico Come l'opinione Pubblica Cambia Come la stampa Inquadra Questa donna Anche durante Prima del processo L'avvocato Di Lele Dice Guarda Non ti conviene Non dichiararti Colpevole Ti faranno a pezzi Se vai in un vero E proprio processo Scaveranno Nella tua vita Chissà cosa Troveranno E invece Puoi scavare Nella vita Della Tannetti Sembra essere appunto La chiave di volta Per fare tutto questo Tutto questo Che appunto Si basa Su una struttura Su una sceneggiatura Veramente interessante Che è un continuo Crescendo La cosa bellissima È vedere come I personaggi Prendono forma In una sottospecie Di acquarello Quasi Che piano piano Diventa sempre più nitido Sempre più nitido Farò una battuta Da cieca Ma è come se A un certo punto Stesse guardando La tv E poi Non vedetevi E decidete Di mettervi gli occhiali E improvvisamente Tutto vi appare In 4k Esattamente Quello che succede Poi nella mente Di Cora Tannetti Ovvero che Tutte quelle che erano Delle sue immagini sfocate Delle supposizioni Improvvisamente Iniziano a prendere forma Iniziano decisamente A delinearsi In modo Molto più convincente Fino a Avere Dei plot twist Molto Molto Suggestivi Chapeau Come vi stavo dicendo In realtà A inizio Della serie Per quanto riguarda Appunto Il personaggio Di Jessica Biel E Bravissima Incredibile La forza E la tenacia Che mette In E quanto ci abbia creduto In questo ruolo Soprattutto Vedere Il suo cambiamento Man mano Man mano Che va avanti La scena Man mano Che il suo personaggio Cresce Più cresce Il suo personaggio Più lei In realtà A livello psicologico Un po' Boom Un po' Boom Un po' Un po' Morto C'è stato un crollo Un attimo Del caldo Che fa male Anche al 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 modem C'è stato un attimo Di crollo Ho visto Dicevo Come Così come Il suo personaggio Crolla Così come Il suo personaggio Si evolve E cresce Al tempo stesso La sua fragilità La sua La sua mente E anche i suoi sentimenti Iniziano piano piano A sgretolarsi Che però Proprio come una finice Poi dalle sue stesse Ceneri Lì è pronta A No? A risorgere Ed è bellissimo Anche vedere L'ipocrisia Delle persone Che poi circondano E che siano state Anche la chiave di volta A far sì Che questo personaggio Abbia compiuto Determinate scelte Sia stato portato Verso Determinati tipi di strade Da intraprendere No? E da percorrere Anche poi la relazione Che ha lei Con Con la sua famiglia Veramente Molto Molto Intenso In particolar modo Con sua madre Con sua sorella Anche la religione Insomma In questo caso Ce ne sarebbe Veramente Tanto E tanto Da dire Intanto Qua OBS Però Non mi sta dando Dei segni di vita Mi avete persa? Forse adesso Abbiamo una ripresa O forse no Forse devo Riavviare La pazienza La pazienza Ok Dovremmo Riesserci Altrimenti Facciamo prima Mi sentite Soprattutto Più che altro Datemi dei segni di vita Voi Ditemi se Mi sentite Prima di tutto Datemi dei segni di vita Altrimenti Insomma Io Facciamo che Riavvio Così Evitiamo La La manfrina Datemi Segni di vita Un po' Come Cora Datemi dei segni di vita Come Cora Dei forti segni di vita Come Jessica Biel Che ha fatto Un salto di carriera E spero quasi Di vederla anche In altri In altri Lidi A questo punto In altre In altre parti E in altri ruoli Com'è possibile Che mi vedete E mi sentite Quando Io vedo Il mio BS Letteralmente Morto Vabbè Insomma Se mi vedete Se mi sentite Io andrei Avanti Anche se qua I segni di vita Sono Sono veramente Zero Vabbè Comunque Dicevo Andando avanti Allora A questo punto Se mi vedete Se mi sentite Anche se voi Mi sembrate pure voi Abbastanza Morti In questo momento Che Più appunto Si va avanti Più il suo personaggio Evolve E più compiamo Insieme a lei Un viaggio Che la porterà In un primo momento A soccombere Ponendola di fronte A una verità Assolutamente assurda E poi in realtà La verità diventa Ancora più assurda Però lei Ha un totale Stravolgimento Insomma Quindi E' veramente Molto bello Da seguire Sia da un punto di vista Psicologico Quindi dell'evoluzione Del personaggio Dell'evoluzione mentale Del personaggio Sia da un punto di vista Della ricostruzione Delle immagini C'è veramente Un lavoro Che mi sembra Anche abbastanza Veritiero Quello appunto Che viene compiuto Dal detective Ambrose Harry Ambrose Che pure lui In realtà Ha un po' Di marciume Sotto il tappeto Un bel po' Di polvere Da Da nascondere Al di sotto Del suo Del suo Tappeto E tra l'altro Bill Pullman Come in realtà Stava dicendo Cecilia Appunto E' l'unico Phil Rouge Che lega La prima stagione Alla seconda stagione Ma poi in realtà Le storie Sono totalmente diverse Sono totalmente sconnesse Io vedi La serie due anni fa Quasi Per curiosità Mi sorprese Ottimo Film thriller Esatto Che poi sembra Un film Molto Molto Allungato Un po' Diverso dal solito Che spalmato In otto step Ha il tempo giusto E ragionato Per far emergere cose Jessica B È il brava sul serio Sì esatto Esatto Riesce veramente A dosare Molto bene I tempi I vari tempi Insomma Di ripresa Di rilancio Di plot twist Di drammaturgia Veramente una serie thriller Scritta davvero Davvero bene Non se ne trovano Tantissime in giro Sono stata Davvero molto Molto sorpresa Da questa Piccola scoperta E sinceramente Sarei anche molto curiosa Di vedere adesso La seconda stagione Per vedere se Regge Nello stesso modo Il ritmo Perché poi Nei thriller Ragazzi È importantissimo Il ritmo È importantissimo Anche non essere banali Però appunto Anche da una storia semplice Come quella Che potrebbe essere Un raptus Che se ne sentono Tante Alla fine Nel quotidiano Di fatti di cronaca Di donne Uomini Presi da un raptus Che uccidono No Altre persone Poi in realtà Si costruisce Una catena Di eventi Che quasi quasi Il carnefice A un certo punto Diventa la vittima E questa è una cosa Molto molto interessante Senza però mai Essere estremamente Moralista Poi appunto Ti dà un quadro Generale Anche insomma Della provincia Di come Ve lo dicevo prima I media Capovolgono tutto Di come a volte Bisogna essere anche Fortunati a trovare Una persona Che vi sostenga Che creda In voi Anzi che addirittura Crede più quella persona Perché in questo caso È più il detective Che crede a Cora Che Cora stessa In se stessa Appunto Quindi questa è una cosa Davvero Molto molto Particolare Davvero Molto molto Significativa Ciao Black Buon pomeriggio Non so Prima ho detto Che andava tutto bene E poi è partito tutto E poi è partito tutto Sì in effetti Ha un attimo di crollo Però Fino a quando Mi senti Cioè Se l'immagine Si blocca Un po' Sti cazzi L'importante È se mi sentite Così Evito di fare Il giochino Del riavviare Che soprattutto Adesso che siamo Nel bel mezzo Del Ho quasi finito Poi Non avrebbe Particolarmente Non avrebbe Particolarmente Senso E Quindi Ottimi attori Ottima struttura Anche Bill Puman Vi stavo dicendo Pullman Vi stavo dicendo L'attore che fa Harry Ambrose È veramente Molto interessante Davvero Molto Molto bravo E Sono curiosa Di guardare La seconda stagione Soprattutto Per lui Anche se Come mi state dicendo Molti mi hanno detto La seconda stagione Non è Allo stesso livello Della prima stagione Cosa che purtroppo Succede Molto Molto spesso Quando parliamo Di serie Antologiche Tra l'altro Gli episodi Sono anche Abbastanza brevi Durano tra I 40 E 45 Minuti Quindi insomma Poi è una serie Che veramente Ve la guardate Tranquillamente In binge watching Io l'ho vista In due serate Però si presta Veramente Molto molto bene A essere Divorata Di botta Così Boom Unicamente True Detective Brava Cecilia Esattamente True Detective È proprio L'emblema Delle serie Antologiche Che spesso E volentieri Non sono altrettanto Promettenti Quando si va avanti Con la seconda Stagione Terza stagione Ma C'è anche American Horror Story Per esempio Che per carità La seconda stagione È veramente Molto bella Quella delle sue ore Poi però Insomma Più va avanti Più ha avuto Delle stagioni Veramente Bruttarelle O per esempio Black Mirror Insomma Anche Black Mirror Purtroppo Capita Capita Spesso Con Con le serie Antologiche Ecco Direi che Questo The Sinner Tra l'altro Un ottimo Tipasto Aspettando Anche la seconda Stagione Di Man Dunter Che è probabilmente Una delle serie Più belle Che possiamo Trovare Thriller Mystery All'interno Del catalogo Netflix Veramente Veramente Molto Molto Bella Quindi Questa Secondo me Se siete Poi Degli Amanti Come la Sottoscritta Del genere Thriller Del genere Giallo Secondo me Può essere Veramente Vi darà Tante Tante Soddisfazioni Anche Il marito Poi Di Dicora Tannetti Amazon Tannetti Interpretato Da Christopher Abbott E' Molto Bravo Anzi Inizialmente Vi trae Anche Un po' In In confusione Perché Si comporta In modo Un po' Strano Vi sta Quasi Un po' Sulle Balle Per come Si comporta Dopo Quello Che Succede Alla Moglie Poi Però Uno Sviluppo Interessante Ricorda Un po' Kit Harrington Devo Dire La Verità Insomma Ci ha Ricordato Un attimino Kit Harrington A me La Regia Mentre Lo Stavamo Guardando Ci siamo Sprecati In battute Veramente Molto Facili C'è Poi Un Ventaglio Di Personaggi Chi Un pochino Più Caratterizzato Chi Un pochino Più Stereotipato Però Anche Quelli Più Anche I Personaggi Più Stereotipati Comunque Hanno Una Giusta Funzione Soprattutto Riescono A essere Convincenti Estremamente Convincenti Dall'inizio Alla Fine A portare Avanti In modo Logico In modo Razionale Tutta La Baracca Baracca Insomma Che Così La chiamiamo Baracca Ma in realtà Ha una Buonissima Buonissima Struttura Dove Dire Anche Il lavoro Sulle Musiche È Stato Molto Interessante Qui La musica Poi È Centrale Quando Si Dice Che A volte Dei Suoni Degli Odori Delle Immagini Ci portano Alla Mente Ricordi D'infanzia Traumi Nascosti Cose Che Magari No Inaspettatamente Avevamo Dimenticato Che Si Ripalesano Così All'improvviso Quello Di Core È Anche Un Modo Poi Per Confrontarsi Con Dei Pesantissimi Scheletri All'interno Del Suo Armadio Dei Dei Fantasmi Del Passato Molto Molto Importanti Anche Un Certo Confronto Con Con La Religione Ve lo Stavo Dicendo Prima È Una Serie Dove C'è Il Personaggio Della Mamma Di Corat Tannetti Che Molto Molto Religiosa A Tal Punto Da Diventare Quasi Estrema Ecco Sapete Come Quando Si Fanno Quei Discorsi Ah Mio Figlio È Guarito Perché Io Ho Pregato Così Tanto Dio No Perché Esiste Dei Dottori Esiste Quella Cosa Chiamata Medicina Scienza Che Ha Permesso Di Trovare Una Cura Per Tuo Figlio No Sono State Le Tue Preghiere Che Hanno Salvato Tuo Figlio Esatto Qui Si Si Interroga Molto Su Queste Cose Ci Si Riflette Tantissimo È Davvero Una Bella Stagione Bella Bella Completa Hanno Davvero Fatto Un Buon Lavoro Probabilmente Nemmeno Avendo Chissà Quali Enormi Chissà Quanti Soldi Ecco Chissà Che Budget Immenso Quindi Sono Stati Davvero Davvero Molto Bravi Probabilmente A fare Di Necessità Virtù Il Possesso Però Comunque Una Serie Non Che Si Vede Che C'erano Pochi Soldi Anzi Sopretutto In Alcune Inquadrature Sono Veramente Molto Bello C'è Anche Una Buona Regia Poi Ripeto Per me La B L'ha Fatta Quella Che Regge Più Su Di Sè Tutta La Serie Soprattutto Quando Ci Sono I Suoi Primi Piani Quando La Macchina Da Presa Rimane Molto Moltissimo Sul Su Assolutamente Convinta Di Dover Cercare Un'altra Verità E Spesso La Verità Non È Quella No La Realtà Non È Quella Che Ci Sembra Tale Quella Che Ti Viene Lì Spiattellata Davanti Alla Faccia Spesso Davanti A Quella Facciata C'è Tanto Tanto E Tanto Altro Ancora Quindi Bravi Che Devo Dire È Una Serie Che Vi Consiglio Assolutamente Di Vedere Di Dargli Uno Sguardo Anzi Tanto Dal Pilot Secondo Me Vi Convince Così Alla Alla Stragrande Forse Fargo Si Salva Un Pochino Sì In Effetti Probabilmente Fargo Si È Quella Che Si Salva Un Po Non Ricordo Quante Stagioni Hanno Fatto Di Fargo Ricordo Di Aver Visto Due Stagioni Di Fargo Ma Ne Hanno Fatte Altre Questo Non Ricordo Poi Mi Ero Fermata In Effetti Però Le Prime Due Stagioni Erano Tutte Due Buone Allo Stesso Livello Ecco Darò Comunque Una Possibilità Anche A Questa Seconda Stagione Cercherò Di Recuperare Anche Questa Seconda Stagione Che Invece Parla Si Apre Sempre Col Detective Ambrose Che Ritorna Poi Nella Sua Città Natale Anche Perché In realtà C'è Un Mini Cliffhanger Poi A fine Di Questa Prima Stagione Comunque Ritorna Nella Sua Città Natale Dopo Che Un Ragazzo Di 13 Anni A Quanto Par Ha Confessato Di A Ha Ucciso I Sui Genitori E Quindi Insomma È lì Che Deve Capire Perché Questo Ragazzo Ha Ucciso I Genitori E Più Va Avante A Quanto Capito Più Scava Più Trova Dei Segreti Veramente Assurdi Nascosti All'interno Della Sua Città Segreti Che Forse Sarebbe Stato Meglio Se Fossero Rimasti Appunto Sepolti Tre Stagioni A Fargo Io Ho Visto Le Prime Due La terza La terza Mi Manca Allora La terza Sicuramente Mi Manca Perciò Darò Una Possibilità Anche A Questa Seconda Stagione Per Quanto In Effetti Parere Comune Che Non Sia Altrettanto Bella Come Come Questa Prima Stagione Probabilmente Manca Anche Non So Negli Attori Non Vedo Nemmeno Un Attore Chissà Quanto Portante Come Invece Lo È Stata Poi La Biel Che È Anche Produttore Esecutivo All'interno All'interno Di Questa Prima Stagione Tra L'altro La Prima Stagione Di The Sinner È Tratta Anche Da Un Libro Dall'omonimo In realtà Romanzo Di Un' Atrice Tedesca Ed È Veramente Manca La Biel Sì Esatto Praticamente Sì E Sono Molto Curiosa Anche Di Leggere Il Libro Per Quanto Voglio Dire Ormai Lo Sappia Per Quanto So Quale Sia La Chiave Di Volta Però Sare Veramente Molto Curiosa Di Vederlo Anche Di Leggerlo In Versione Quindi Scritta Di Scivolare Ancora Di Più All'interno Della Della Mente Della Della Protagonista Ecco Tra l'altro La Serie Venne Candidata A I Golden Globe E Per Miglior Attrice Quindi A Jessica Biel In Attrice In Una Miniserie E Ha Ricevuto Ancuna Nomination Agli Emmy Awards Nella Stessa Categoria Che Dovrebbe Sempre Jessica Biel Dovrebbe Aver Ricevuto La Nomination Come Miglior Attrice In Una Miniserie Quindi Davvero Brava Probabilmente Uno dei Ruoli Insomma Più Belli Della Biel Non Saprei Sinceramente Non Mi Viene Nessun Altro Ruolo A parte Insomma Quello Iconico Di Settimo Cielo Che Però Non Era La Sere Della Vita Ecco Diciamolo Diciamolo Pure Non Mi Viene Nessun Altro Ruolo Che Mi Abbia Lasciato Così Sorpresa Ecco Per Quanto Riguarda Per Quanto Riguarda La Biel Tra L'altro È da Un Po Che In Effetti Non La Vedevo Al Cinema Stavo Dando Un'occhiata Alla Sua Filmografia Ma Non C'è Nemmeno Nulla Di Sì Delusionist Probabilmente È stato Uno Di Quei Film Più Elisabeth Town Più Insomma Più Più Importanti Però Stiamo Andando Indietro Di Dieci Anni Praticamente Quindi Un bel Po Un bel Po Di Tempo Indietro Ecco Direi Un gran Bel Po Non So Voi Quali Ricordi Avete A parte Settimo Cielo Di Jessica Che Tra L'altro Molto Molto Bella Quanti anni Alla Biel Sembra Incredibilmente Ciovane Non Arriverà A 40 Anni Si Riporta Pure Estremamente Bene Veramente Molto Molto Bella All'interno All'interno Della Della Sere Oltre a Essere Lo Ripetiamo Ancora Molto Brava E Molto Presa Dal Suo Personaggio Va Bene Io Direi Che Non so Se Desin Ripeto Che Vi Consiglio Assolutamente Di Vederla Di Recuperarla A 37 Anni Se Li Porta Benissimo Se Li Porta Benissimo E Veramente Sembra Una Gi Anche Perché Nella Serie Lei Non Solo Fa Recita Nel Presente Ma Recita Anche Nel Passato Quindi Con Un Almeno Un 5 6 Anni Indietro A volte Ed Incredibile Sembra Cioè Anche Nella Parte Della Ventenne Funge Molto Molto Bene Cioè Funziona Perché A un Certo Punto C'è Lei Che Dovrebbe Avere 23 Anni Secondo Me Si Sembra Ne Dimostra Leggermente Di Più Però Però Funziona Veramente Molto Bene Assolutamente Benissimo Secondo Me Ah Allora Ecco Aveva fatto Capodanno A New York Ecco Dov'è Che me La Ricordavo Anche In Uno L'avevo Detto All'inizio Che Me La Ricordavo In Uno Di Quei Film Di Questo Genere Con Gli Enormi Cast Corali Che Compaiono Ogni 5 Minuti Film Veramente Boh Che Avrò Visto Ma Non Era Pure In Un Film Su San Valentino Forse No Forse Non Era Sempre Uno Come Questi Però Con San Valentino Forse No Allora Era Capodanno A New York Appuntamento Con L'amore Si Ecco Dove L'avevo Vista Anche L'appuntamento Con L'amore Che Ricordo Che Andai A Vederlo Con Le Amiche Eravamo Sconvolte Perché Per Qualche Attore Siamo Andate A Vedere Questo Film Io Capodanno Con L'amore Sono Andata A Vererlo Per Stone Catcher Sempre Per Stone Catcher Andai A Vererlo Principalmente Per Stone Catcher Che C'era Un periodo Che mi piaceva Ad Amori Continua A Piacermi Molto Catcher Pur Essendo Un po Un idiota Però Secondo Me Fa L'idiota In Modo Convinto Infatti In Questo Periodo Mi Sto Recuperando The Ranch Che Tra L'altro Una Sottospecie Di Sitcom Alla Fine Dura Ogni Episodio Quanto Dura 20 Minuti Una Roba Del Genere Sinceramente Mi Sta Dando Soddisfazioni Lui Lui Mi Piace Molto Come Come Fa Quando Fa Il Fesso Mi Piace Veramente Tanto Bravo Vice Di Vabbè L'agio Giovanissimo Ciovanissimo Tra L'altro In Dude Where Is My Car Fatti Strafatti E Strafighe Tra L'altro Nella Versione Italiana Bababia Bababia Dopo Settimo Cielo Uno dei Primi Filmi In Quella Ricordo Blade Trinity Sì esatto Il più brutto Film Di Blade Fra I Tre Blade Probabilmente Il Terzo Quello Con Dracula Con Drake E Sì Sicuramente Il più Brutto Secondo Me E Quel Film C'era Anche Ryan Reynolds Ecco Abbiamo Parlato Del La Linea Il film Delle Team Non l'hanno Visto Manco Gli Attori Probabile Molto Molto Probabile Che Non L'abbiamo Visto Neanche Gli Attore Io Onestamente La Biel Me la Ricordo In Quel Film Con Nicolas Cage Mi Pare Next Oddio Non mi Ricordo Non mi Ricordo Sì Next Non mi Ricordo Forse Non Credo Di Averlo Non Credo Di Averlo Visto Va Bene Giovani Io Direi Possiamo Anche Fermarci Qui Per Questo Episodio Di Binge Stream Quindi Abbiamo Detto Non volevo Creare Disagio No Tranquillo Blake Quindi The Sinner Pollicione In Su Assolutamente Assolutamente Confermato O Positivo Ci Piace Da Morire Tra L'altro Io Mi Immolo Per La Patria E Mi Sto Guardando Una Nuova Serie In realtà Un'altra Serie Antologica Che Si Chiama Slasher Not bad Molto Molto Splatter Ho Visto Film Peggiori Però Questa Devo Dire La Verità Ci Marcia È Veramente Come Genere Slasher Appunto Come Ci Marcia Veramente Molto Molto Bene Ci Sono Scena Scena Abbastanza Truculente Non Capisco Da Quante Stagioni Si Ha Formato Perché Su Netflix Ce Ne Sono Tre Che Non Sono Nemmeno Chiamate Stagioni Io Sto Guardando Quella Che Si Chiama Solstizio Ed Divisano Otto Episodi Se Non Mi Sbaglio Divisi In Fasce Orarie E Non È Male Ho Visto Di Meglio Ho Visto Di Peggio Però Interessante Se Siete Deboli Di Stomaco Non Ve La Consiglio Magari Ne Parleremo Ne Parleremo Insomma Prossimamente Se Ne Può Se Ne Può Parlare Dopo Magari Stranger Things La Settimana Successiva Se Non È Uscito Nient'altro Ah No Forse La Casa De Papel Esce Ma Sicuramente Non Soffre La Terza Stagione La Casa De Papel E Slasher Cosa Veramente Preferiate Ho Un Attimo Di Dubbio Ho Un Attimino Di Dubbio Forse No Però Non Sarà Ancora Uscito La Settimana Dopo La Casa De Papel No Non Lo So Vabbè Comunque Come dicevo Sui G La La Prima Carina La Seconda Me La Terza Non Ancora Vista Ok Ok Vabbè Io Me La Sto Vedendo Per Compagnia L'avevo Messa Perché A Dove Non Gli Do Mille Lire Nemmeno Quindi Metto La Sere Per Compagnia Poi Se La Sere Merita Allora Merita La Mia Attenzione Automaticamente Faccio Stop E La Metto Quando Ho Un Momento Per Guardare Essere Attenta Altrimenti Le Lascio Lì Come Sfondo Giusto Per Capire Se Valgono La Pena Oppure No E In Effetti Slasher L'avevo Messa Esattamente In Questo Modo Mentre Stavo Pranzando Ma Idea Fu Più Malvagia Di Questa Perché Ho Avuto Un Attimo Di Cioè Ok Dobbiamo Fare Pausa Dobbiamo Fare Un Attimo Di Pausa E Poi Andare Avanti Però Ho Praticamente Quasi Fini Mancano Tre Episodi Direi Che È Andata Avanti Per Tutta La Mattinata No Forse Qualcosa Di Più Di Tre Episodi O Slasher De Papella Casa De Slasher Che Pure Potrebbe Potrebbe Essere Interessante Tra L'altro Tra L'altro La Casa De Papelle Dovrei Incontrare Il Cast Dovrei Incontrare E Detto Cioè OBS Ha Deciso Di Crollare Proprio Su Dovrei Incontrare Il Cast Della Casa De Papelle Però Le Prime Due Tre Puntate Di Quella Stagione Sono Bele Pesanti Ci sono Dei Episodi Ci sono Dei Momenti Non Tanto L'episodio In sé Per sé Quanto Alcune Sequenze Alcune scene Che sono Diciamo Che è un serial killer Che ha visto Un sacco Di Slasher Movie E Imparato Molto Molto Bene Perché Ci sono Degli Omicidi Che sono Veramente Molto Molto Cruenti E poi Soprattutto Te li Fa Vedere Proprio Bene Ne Parleremo Anche Perché So Che Queste Cose Possono Piacervi Quindi Sulle Ganarda Ci sta Molto Bene Ne Parleremo Ne Parleremo Non Settimana Prossima Magari Quella Dopo Così Riesco Magari A Recuperarla Tutta E A Fare Un Escursus Fra le Varie Stagioni Va Bene Belli Direi Che Ci Possiamo Fermare Qui Peccato Che OBS Non Ha Collaborato Bene Però L'importante Che Abbiate Capito Tutto Quanto Noi Ci Vediamo Domani E Un Fan Di Final Destination Indubbiamente Indubbiamente Mi Saluti Ursula Corbero Beh Chi Non Ha Un Piccolo Grande Debole Per Ursula Cioè La Signorina Tokyo È Un Gran Bel Vedere Ora Nessuno Di Loro Spiccherà Di Bravura Però No Bella 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 Molto Bella A parte I commenti Scemotti Noi ci Vediamo Domani Qui su Lega Nerd Alle Cinque Perché Parlando Di Horror Tra L'altro Parleremo In Anteprima Live Di Annabelle 3 Invece Poi Se Seguirmi Sul Mio Canale Ci Vediamo Tra Un'oretta Sempre Per Parlare Di Horror O meglio Continuare A giocare A un Bell Horror Grazie Per Essere Stati Con Me Noi ci Vediamo Alla Prossima Binge Stream Torna Settimana Prossima Mi Raccomando Guardatevi The Sinner Perché Ne vale Veramente La Pena Ciao